Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel refettorio di questo convento dei frati minori Cappuccini. Vedete in sovraimpressione questo indirizzo di porta elettronica per condividere le vostre storie, per raccontarci la vostra testimonianza. Noi lo faremo nelle prossime settimane, stiamo raccontando un po' tutte le vostre storie, sono veramente tante. Ci troviamo in questo luogo, in realtà il refettorio di San Giovanni Rotondo, il primo refettorio è quello piccolo che spesso noi vediamo nei nostri filmati, dove Padre Pio quando giunse qui a San Giovanni Rotondo prese posto insieme alla fraternità. Ma questo era il refettorio grande perché questo era un luogo, il convento era un luogo di seminario, serafico, quindi qui c'erano tutti i fratini, i piccolini. E il posto di Padre Pio inizialmente era proprio questo, dove una piccola targa lo ricorda. Quindi nel 1918-1929, come ci ricorda anche questa targa, non sappiamo quando tutti i frati della fraternità si trasferirono qui, ma in realtà nel 1928 per richiesta di Padre Pio al Padre Guardiano, anche lui si trasferì con la fraternità, perché lui essendo il direttore dei fratini, l'assistente, doveva stare insieme ai fratini. Poi dopo chiese e si trasferì nel refettorio piccolo, dove stavano insieme a tutta la fraternità. Poi non c'è dato sapere quando tutta la fraternità si è trasferita qui, anche perché il seminario serafico è stato per disposizioni sul convento di San Giovanni Rotondo, è stato spostato in un altro convento nel 1932. Ecco, io cerco di prendere posto proprio accanto a quello che era poi il posto di Padre Pio quando si trasferì tutta la fraternità qui, che questi segmenti del filmato che è nei nostri archivi ci racconta sempre, quando Padre Pio era qui con la fraternità. Vediamo un Padre Pio un po' serio, serioso, ma sicuramente questo era dovuto alla presenza di fotografi e macchina da presa all'interno del refettorio. Lui non amava molto la telecamera e la macchina fotografica. Oggi ci troviamo qui per ricordare a tutti voi anche un altro periodo di Padre Pio, la sua presenza a Pietrelcina. Ecco, spesso ritorniamo su questo argomento, perché quando era un giovane sacerdote lui si trovava a Pietrelcina e ha avuto anche lì un'importante missione anche a servizio della comunità. Una strana malattia non gli permetteva di stare in convento, quindi lui era a Pietrelcina. E proprio per questo ci racconta questo episodio una concittadina di Padre Pio, una pucinara, una sua figlia spirituale, Lucia Iadanza, che un giorno, mentre lui era insieme alla comunità, sicuramente subito dopo la Santa Messa, si sente dire da Padre Pio che avrebbe gradito un bel piatto di rape. Lucia subito andò da sua sorella Margherita, che era nel suo orticello, coltivava anche delle rape, lo riferì subito a lei di questo desiderio di Padre Pio. Margherita immediatamente prepara un buon piatto fumante di quella verdura richiesta e glielo mandò. Padre Pio mangiò con grande gusto queste rape, tramite Lucia mandò anche a ringraziare la sorella Margherita, ecco, con tanto calore e con tanto affetto. Dopo qualche anno Margherita però si trasferisce in America, quindi lascia Pietrelcina con la sua unica figlia, dove lì si maritò. Questa giovane sposa ebbe il primo figlio, dopo l'evento il medico però le raccomandò di non avere più una nuova gravidanza, perché questa nuova maternità le avrebbe comunque procurato dei danni e addirittura sarebbe stata anche fatale per la sua vita. La sposina però rimase di nuovo incinta. Margherita immediatamente scrive dall'America, e scrive a sua sorella Lucia, di chiedere immediatamente a Padre Pio di pregare per la figlia di Margherita, quindi per sua nipote. Padre Pio subito rispose, dia a Maddalena di stare tranquilla, perché io sto qua a pregare per lei. Passarono dei mesi, Lucia andò a confessarsi da Padre Pio, e fu proprio Padre Pio che le disse, Lucia tanti auguri per tua nipote Antonietta, ha avuto un bel maschietto. E dopo una settimana giunse un telegramma, proprio dall'America, era sua sorella Maddalena che diceva, per Antonietta è andato tutto bene, è nato un bel maschietto, proprio le parole di Padre Pio. E Lucia in quel momento pensò, con cuore e affetto, che quel piatto di rape di sua nipote, proprio per quel piatto, si era salvata la vita. Grazie a tutti.